Salvi 7.000 precari degli enti locali della Sicilia dei comuni in dissesto o predissesto. La Camera, in sede di approvazione della legge di stabilità, ha approvato l'emendamento dei deputati siciliani del Partito Democratico, che estende la proroga dei precari siciliani anche ai lavoratori dei comuni dissestati o in predissesto. L'emendamento porta alla firma di tutti i deputati siciliani del Partito Democratico, primo firmatario l'ex presidente della Regione, Angelo Capodicazza. Sull'emendamento si è spaccato il gruppo del Movimento 5 Stelle, mentre hanno votato contro Lega e Forza Italia. Così, dopo l'approvazione delle deroghe per tutti i precari degli enti locali in Sicilia, è stata completata l'opera con quelli che lavorano nei comuni dissestati, senza dover attendere il decreto cosiddetto mille proroghe. I sindacati hanno revocato le mobilitazioni in programma da oggi dei precari degli enti locali della Sicilia. La decisione è scattata dopo l'ok della Camera all'emendamento dei deputati del PD alla legge di stabilità, che consente la proroga per un anno anche dei contratti dei 7.000 precari degli enti locali, dei comuni in dissesto e predissesto della Sicilia, che scadono il 31 dicembre prossimo. L'ok al provvedimento è frutto di battaglie in difesa dei lavoratori. Soddisfazione dall'Anci Sicilia, che ha partecipato alla mobilitazione dei lavoratori e dei sindacati. Si tratta di un risultato, ha commentato Orlando, che ha visto l'impegno dell'Associazione su un unico fronte con i rappresentanti delle altre istituzioni, sottolineando fra tutti il costante impegno di Angelo Capodicasa. Così anche quest'anno, come negli anni passati, per i lavoratori arriva dunque la proroga, che garantirà un Natale più sereno a migliaia di siciliani.